Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video per parlare di quella che è stata questa dodicesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come sempre un po' partita per partita. La prima partita di questa giornata è stata quella tra Bologna e Crotone finita 3-2 per il Crotone. Davvero grandissima impresa da parte del Crotone, vittoria importantissima e quindi il Crotone ora si porta a 6 punti sulla zona retrocessione mentre continua la crisi del Bologna che davvero stava facendo un bellissimo campionato però questa contro il Crotone è stata la sua quarta sconfitta consecutiva. Comunque il Bologna si è portato due volte in vantaggio, il Crotone è riuscito a pareggiare entrambe le volte, prima 1-1 e poi 2-2, mentre poi Budimir ha segnato il gol del 3-2 mentre per il Bologna ci sono stati due grandissimi gol da parte di Verdi entrambi su calcio di punizione. Poi la sera c'è stato il derby della Lanterna, il derby di Genova tra Genova e Sampdoria finito 2-0 per la Sampdoria, quindi per il Genova questa davvero è una sconfitta molto grave perché resta a 6 punti in zona retrocessione, inoltre è stato anche esonerato Iulic e intanto continua il grande campionato della Sampdoria che si trova a 23 punti ed ha anche una partita in meno. Sampdoria che comunque ha meritato la vittoria, si è portata in vantaggio nel primo tempo con Gaston Ramirez mentre poi l'ha chiusa nel secondo tempo segnando il gol del 2-0 Quagliarella Poi ieri alle 12.30 c'è giocata Inter-Torino finita 1-1 e questo davvero è stato un risultato molto importante per noi siamo stati davvero molto contenti per il pareggio dell'Inter perché avevamo la speranza di allungare a più 4 purtroppo non l'abbiamo fatto, siamo rimasti a più 2 però comunque è importante che l'Inter non abbia vinto il pareggio alla fine è stato giusto è stata una partita equilibrata con un bel po' di occasioni da una parte e dall'altra nel secondo tempo il Torino si porta in vantaggio con Iago Falke che davvero fa un bellissimo gol poi sull'1-0 il Torino con un colpo di testa di Obi va anche vicino al 2-0 però poi l'Inter pareggia con Eder e alla fine poi Vesino con un tiro dalla distanza prende la traversa e però poi la partita finisce 1-1 Torino che ieri ha dimostrato una maggiore solidità in fase difensiva nelle scorse partite si era dimostrato piuttosto fragile in fase difensiva Inter che quindi ora è terza a 30 punti un punto dietro la Juve e due punti dietro di noi poi nel pomeriggio come sappiamo c'è stata la nostra partita contro il Chievo finita per 0-0 ovviamente ho fatto il commento post partita andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto comunque peccato ragazzi perché è stata davvero una grande occasione sprecata sarebbe stato importantissimo mantenere i 4 punti cioè allungare sull'Inter di 4 punti e mantenere i 3 punti sulla Juve però ieri il Napoli è parso un po' stanco e ci sta anche ragazzi ci sta perché giochiamo ogni 3-4 giorni l'ho detto anche ieri e poi si può rimproverare davvero poco ad una squadra che ha fatto 32 punti dopo 12 giornate che sono davvero un'enormità cioè 10 vittorie e 2 pareggi ora al rientro dovremmo giocare contro il Milan partita assolutamente da vincere e come ho detto ieri dobbiamo assolutamente arrivare allo scontro diretto con la Juve che abbiamo ancora il vantaggio in classifica in modo da avere al San Paolo l'occasione di allungare e ragazzi dobbiamo fare di tutto per vincerlo questo scudetto perché non vincerlo sarebbe davvero una grandissima occasione buttata poi c'è stata Juve-Benevento finita 2-1 per la Juve ma nel primo tempo il Benevento davvero ci ha fatto sognare abbiamo sognato anche per un po' l'allungo sulla Juve però poi alla fine noi non siamo riusciti a vincere e la Juve non ha vinto comunque Benevento che si è portato in vantaggio al diciannovesimo del primo tempo con una grande punizione di Ciciretti il Benevento poi riesce a mantenere riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 però poi al cinquantasettesimo la Juve trova il pareggio con il 71 e poi trova anche il 2-1 con Quadrato Benevento che però ieri davvero ha fatto una gran bella figura non molte squadre di quelle che lottano per la retrocessione riusciranno ad andare in vantaggio all'Allianz Stadium e soprattutto a mantenerlo per oltre un'ora e quindi il Benevento ha dimostrato che può giocarsela e la prossima partita contro il Sassuolo davvero può essere quella decisiva una vittoria per il Benevento davvero potrebbe riaprire le speranze per una salvezza che comunque resta molto difficile però nulla è impossibile ricordiamo il miracolo del Crotone della scorsa stagione mentre la Juve che come detto purtroppo vince e si porta ad un punto da noi poi ieri pomeriggio c'è stata anche Fiorentina-Roma e la Roma ha fatto davvero una vittoria molto importante ha vinto per 4-2 Roma che davvero temo possa essere anche lei un'avversaria possibile per la corsa allo Scudetto perché davvero sta vincendo partite molto complicate ha vinto a Firenze ha vinto a Torino ieri si è portata in vantaggio per due volte con una doppietta di Gerson e poi è stata per due volte raggiunta dalla Fiorentina una prima con Veretù e poi con Simeone mentre poi nel secondo tempo la Roma segna il gol prima del 3-2 e poi del 4-2 e vince la partita Roma che davvero sta crescendo con il passare delle partite sta dimostrando anche un bel gioco anche se ieri in occasione dei due gol non è stata impeccabile in difesa comunque per noi è stato davvero importantissimo andare a vincere lì all'Olimpico e comunque almeno secondo me noi siamo superiori alla Roma alla prossima ci sarà il derby Roma-Lazio e davvero sarà un esame molto importante sia per la Roma che per la Lazio noi ovviamente dovremmo sperare in un pareggio Lazio-Udinese che è stata rinviata ha fatto davvero un ubifraggio piuttosto pesante a Roma e accade spesso che queste partite all'Olimpico vengono rinviate e quindi Lazio che resta resta a 28 punti però ovviamente ha una partita in meno e Lazio-Udinese molto probabilmente come anche Sampdoria-Roma si giocherà a gennaio si recupererà a gennaio quindi ora si sono aggiunte altre due squadre oltre a Sampdoria e Roma che hanno una partita in meno che sono Lazio-Udinese poi c'è stata Cagliari-Verona finita 2-1 per il Cagliari Cagliari che ha fatto davvero una vittoria molto importante portandosi a 12 punti mentre il Verona resta in zona retrocessione a 6 punti e il Verona davvero rischia la retrocessione poi c'è stata Atalanta-Spal finita 1-1 Atalanta che si è portata in vantaggio nel primo tempo con Cristante poi la Spal è riuscita a pareggiare nel secondo tempo Atalanta che è rimasta anche in 10 per un'espulsione di Froiler e la partita poi è finita così 1-1 poi la giornata si è chiusa con Sassuolo-Milan finita 2-0 per il Milan davvero vittoria molto importante per il Milan una vittoria che può essere scacciacrisi ha fatto una bella partita ieri il Milan si è portata nel primo tempo in vantaggio con Romagnoli mentre poi ha segnato il gol del 2-0 nel secondo tempo con Suso ed è stata una vittoria piuttosto meritata da parte del Milan come detto mentre Sassuolo che subisce la sua ennesima sconfitta resta quart'ultimo ad 8 punti però davvero rischia il Sassuolo detto questo ragazzi ora ci sarà la sosta si riprenderà come detto tra due settimane noi avremo la partita in casa contro il Milan speriamo bene non sarà una partita facile perché il Milan ieri l'ho visto in ripresa però ovviamente una cosa è giocare contro il Sassuolo e un'altra è giocare contro di noi partita che come ho detto più volte contro il Milan dovremmo assolutamente vincere detto questo ragazzi io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre forza Napoli vi saluto Grazie a tutti.